Morto a 78 anni il Kaiser Franz Beckenbauer. Testa alta, sguardo fiero, un rivoluzionario nel ruolo di libero. E poi dirigente e soprattutto citi di successo, sono Mario Zagallo e Didier Deschamps. Come lui, sono diventati campioni del mondo in campo e in panchina. Il calcio, non solo quello tedesco, perde un altro pezzo di storia. E dice addio a Franz Beckenbauer, il Kaiser per eccellenza. E' stata la famiglia a dare l'annuncio, classe 1943 nato a Monaco di Baviera l'11 settembre. Una vita al Bayern Monaco prima da calciatore e poi dietro la scrivania. Beckenbauer è stato un'icona dello sport e il suo palmarès parla da solo. Sia a livello di club tre coppe dei campioni, una coppa delle coppe. E quattro campionati con i bavaresi. Sia con l'allora Germania Ovest, con la coppiata europeo-mondiali fra il 1972 e il 1974. Senza dimenticare le finali perse nel 66, giovanissimo, contro l'Inghilterra. E poi quella ai rigori con la cecoslovacchia. Dieci anni dopo che poteva valere il biscontinentale. Nel 77, a 32 anni, lo davano per finito, se ne andò a giocare negli Stati Uniti. Ai New York Cosmos con Pelé. Conquistando altri tre titoli prima di un breve ritorno in patria. In tempo per vincere la Bundesliga del 1982 con la maglia dell'Hamburgo. E infine appendere le scarpette al chiodo ancora con i Cosmos.